Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Oggi non abbiamo Francesco in radio dell'Istituto Metrano Studi Politeisti, comunque conduco io a trasmissione come normalmente succede spesso. D'altronde Francesco sta lavorando e certi impegni non gli può mancare. Prima di incominciare la trasmissione, tanto vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. 30-175 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Metrano Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di cominciare la trasmissione, che anche oggi comincieremo con gli oracoli caldaici, ci sono alcune cosette da dire. Allora, prima di tutto i vari radioascoltatori che si possono, si potrebbero lamentare o si sono lamentati perché nella mia trasmissione hanno un trattamento duro, particolare, con quello non si può parlare, eccetera. Bene, ricordo che questa è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Cioè, chi telefona a questa trasmissione sa di trovarsi davanti uno che pratica magia, stregoneria e paganesimo. Non si trova davanti un cristiano. Pertanto è una trasmissione che pretende che la relazione fra me e i radioascoltatori sia una relazione da pagano ad altri o da pagano a gente che gli piace. O che non gli piace, comunque che vogliono contestarli, però se vogliono telefonare per contestarli, si prendono quello che gli arriva. Perché questa trasmissione è di magia, stregoneria e paganesimo. Cioè, io non mi permetto di andare, non so, a Radio Maria o altre radio che ritengo offensive dal mio punto di vista emotivo le loro trasmissioni a dirgli voi sparate e cazzate e voi dite delle cazzate. Non me lo permetto, per cui non vedo perché i cattolici, i cristiani, eccetera, si permettono di fare queste porcherie nei miei confronti. Ora, siccome loro si ritengono i padroni del mondo e ritengo di poter stuprare ogni bambino mettendo i ginocchi davanti al macellare di Sodome e Gomorra, il loro Dio, in questa trasmissione hanno la risposta che meritano. È chiaro questo. Questo è il primo discorso. Il secondo discorso è questo. Ho ricevuto un'altra lettera da Luciano, qui in radio. Luciano, la lettera che io ti ho scritto e che ne ho fatto la trasmissione serale di giovedì scorso, mi sembra, se vuoi io te la preparo e te la mando. Non ho nessun problema di stampartela e di mandartela. Non era semplicemente fatta per la radio e basta, anche perché quella lettera spulciata di tutte quante quelle che sono le cose personali, tipo il tuo nome, eccetera, dopo va su internet. Nel senso che viene diffusa, diventa un volantone, anche questo. Per cui io ritengo che tu mi hai costretto a fare una lettera abbastanza importante, insomma. E nella lettera che mi scrivi oggi io ti posso anche rispondere con qualche battuta, non facendo una trasmissione, però devi metterti in coda perché sto lavorando, prima di tutto, una lettera su stimolazione di Pietro, il quale chiaramente mi ha fatto tutta una serie di domande, di quesiti che mi ha posto che ritengo di dover fare un lavoro abbastanza serio. In pratica devo trattare la relazione fra gli esseri umani e gli spiriti e gli esseri di energia che ci circondano in tutti gli aspetti possibili, cioè quelli almeno concepibili dal punto di vista del paganesimo e andare a definire la relazione come si viene a costruire. E questo è un lavoro non indifferente che però dovevo prima o dopo farlo, cioè non potevo più ormai, cioè ci sono troppi spiritisti, troppi medium, troppa gente che si affida a queste cose per non chiarire esattamente qual è la posizione del paganesimo politeista e della stragoneria. Pertanto mi devo trattare anche alcuni aspetti dello sciamanesimo, alcuni aspetti che sono abbastanza importanti di tutto. Cioè devo costruire uno schema generale nel quale le cose si collocano, cioè quali sono i meccanismi per cui alcune cose si producono. Dopodiché ho appena finito una lettera per la Loredana, l'ho appena finita in computer, e quella gliela spedirò, poi ci sono parecchie cose personali, cioè gliela farò avere. E poi c'è un'altra amica, l'Arianna, che mi ha scritto e anche lei gli farò una lettera, però anche lei dopo questo lavoro lo metterò in coda, insomma, anche se è più personale la cosa. E gliela spedirò. E dopo c'è la tua e poi c'è ancora un'altra lettera di Franco che mi ha mandato e che devo anche lui dare una risposta. Cioè praticamente io rispondo a tutti quanti con calma e con una certa precisione, o almeno ci metto un po' di passione nel rispondere, cioè non prendo le lettere e ci faccio una battuta sopra, nei limiti del possibile. Dopodiché quel giorno che non sarò più in grado di farlo, allora smetterò chiaramente di farlo. Detto questo, un altro piccolo accenno sul programma di questa sera. Allora, siccome ormai la lettura di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è un po' saltata e siccome penso che il lavoro che farò per questo discorso qua sugli spiriti sia abbastanza importante, per cui penso che fra qualche giovedì lo presenterò anche qui in radio nelle trasmissioni serali, allora questa sera in radio alla trasmissione dell'ora 19 leggerò le condizioni per essere pagani e apprendisti stragoni. C'è un altro dei nostri volantoni, diciamo, dei nostri manifesti che vengono diffusi sia attraverso internet sia vengono distribuiti anche abbastanza tranquillamente fra le persone. Per cui vi leggerò le condizioni per essere pagani e apprendisti stragoni, che si lega un po' alla lettera di Luciano di giovedì scorso, cioè nel senso che perché alcune cose non le capiscono e perché solo alcune persone hanno le condizioni per diventare pagane e io non pretendo di convertire nessuno, cioè io non riuscirò mai a convertire un cattolico, non riuscirò mai a convertire chi usa violenza e chi usa fede a critica. Per cui davanti alla violenza e alla fede a critica ricordatevi che sono sempre, sempre impotente. Per cui leggerò quel volantone. Dopodiché se devo recuperare un paio di giovedì andrò avanti un altro paio di giovedì con i nostri manifesti e sono due manifesti relativi a due conferenze che sono stati tenute qui in radio, cioè discorso su trascendenza e immanenza dal punto di vista stragonaria del paganismo politeista e un discorso di presentazione della stragonaria del paganismo politeista, che possono servire un po' a tutti i radioascoltatori qualora decidesse di avere un'idea generale. Dicono, vabbè, noi abbiamo sentito sto matto di Claudio Simeoni che ci fa un'analisi degli oracoli caldaici che ci stanno un po' sui coglioni. Magari sono noiosi, magari non li capiamo, magari non ce ne frega niente, però questa specificità, dove si colloca, all'interno di che visione del mondo si collocano, ecco, profittate di questi tre giovedì dalle 19 alle 20 che avrete la visione generale all'interno del quale questo discorso più specifico degli oracoli caldaici viene a collocarsi. Dopodiché due annunci, innanzitutto il sito internet che è stato aperto dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Io vi do l'indirizzo del sito internet della mailing list sia per registrarsi sia per la posta elettronica, però tenete presente che le cose che troverete là dentro sono le cose che sentite già in radio, cioè le cose che sentite qua sono quelle che trovate nel sito. Allora cos'è che ci serve il sito internet? Ci serve per andare fuori dalla zona di frequenza radio. Chiaramente se io voglio avere i contatti con Roma, voglio avere i contatti con i pagani di Torino, voglio avere i contatti con i pagani di Bologna, di Palermo, eccetera, almeno quelli che trattano internet li posso raggiungere con quel mezzo. Il sito è http.utenti.tripod.it.studipoliteisti.index.html e il mailing list, quando si è registrati, solo per registrarsi, il mailing list è http.www.listbot.com Quando si è registrati il mailing list è paganesimo.listbot.com e l'indirizzo di posta elettronica è studipoliteisti.licosmile.com Comunque voi queste cose qua le trovate ormai anche sui motori di ricerca perché so che Francesco ci stava lavorando sui motori di ricerca per cui cercando studi politeisti o paganesimo o stregoneria trovate anche l'indirizzo del sito. Penso che ci siano problemi particolari per chi sappia usare internet. Io non uso internet per cui non posso neanche darvi più di tante indicazioni. Posso solo ripetere quello che mi è stato detto e gli indirizzi che mi sono stati iscritti. Allora, un'altra cosa invece, una cosa molto più divertente, molto più piacevole, c'è una festa della poesia. Alcuni amici che sono un po' vicini a noi, insomma niente di particolare, fanno una festa della poesia domenica 20 giugno a Covolo di Pederoba. Cioè Covolo di Pederoba è nella parte nord del Trevisano. E allora, festa della poesia domenica 20 giugno 1999 a Covolo di Pederoba. Il mattino c'è un incontro con la natura, canti e meditazioni varie, per chi ne ha voglia chiaramente. Il pranzo in parte è al sacco e in parte è preparato sul posto dagli organizzatori. Il pomeriggio, poesia New Age a Campo Fiorito. Cioè il tema è poesia New Age a Campo Fiorito. Sapete che noi non siamo molto d'accordo con la New Age, però loro piacciono questo discorso New Age. Giornata è organizzata dall'Associazione Culturale La Criola e per informazioni telefonare a Gian al numero 0423 64394. Allora, ripeto, l'Associazione Culturale La Criola, per informazioni telefonare a Gian al numero 0423 64394. L'appuntamento è alle ore 9, presso la sede dell'Associazione La Criola, in via Giuseppe Segusini 21 a Covolo di Pederoba. Se a qualcuno le ore 9 è troppo presto, come per me per esempio, e vuole venire più tardi o solo il pomeriggio, solo per le poesie, al numero 21 di via Segusini a Covolo di Pederoba trova le indicazioni sul luogo della festa che si tiene a circa un chilometro e mezzo di distanza. Per cui ricordo allora, domenica 20 giugno 1999 a Covolo di Pederoba, poesia New Age a Campo Fiorito, giornata organizzata dall'Associazione Culturale La Criola. Per informazioni telefonare a Gian al numero 0423 64394. Festa della poesia. Penso di andarci anch'io, ci sarò sicuramente anch'io, se non il pomeriggio, arriverò magari sui 10, 10 e mezza, e il pomeriggio sarò là, insomma, ad ascoltarmi un po' questi poeti, credo che ci sarà anche il nostro amico, il poeta anticlericale per eccellenza, da quello che so io, e ci saranno anche le poesie burlesche, per cui ci sarà sicuramente da divertirsi e comunque da ascoltare cose piacevoli. Allora, festa della poesia, domenica 20 giugno 1999 a Covolo di Pederoba. Per informazioni telefonare a Gian 0423 64394. Bene, io penso che abbiamo detto tutto per ora e siamo anche andati abbastanza avanti col tempo, per cui possiamo passare direttamente a quello che sono gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, i frammenti che si sono giunti attraverso Procolo, Damasio, attraverso vari personaggi, e che ci hanno permesso di ricostruire il vedere e il percepire di un antico stragone che ha tentato di buttare le basi per la costruzione del Paganesimo, proprio quando l'orrore cristiano stava nascendo. Furono tanti gli stragoni che lavorarono in quel momento e tanti hanno lasciato i loro semi. Uno di questi è Tommaso Didimo, per esempio. Un giorno leggerò anche quel libro. Siamo arrivati al frammento numero 36 e da lì cominciamo. Frammento 36. Ricordo che seguo una sequenza pubblicata da Labur, da Tonelli, che è stata la sequenza che ha afferrato la mia attenzione. Il frammento 36. Il nous del padre, condotto su guide inamovibili, inflessibilmente irradianti, persolchi di fuoco implacabile. Necessità e intento muovono il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il modo di pensare, il modo di giudicare e di sentire. Tutto questo è il nous. E questo viene condotto su guide inamovibili. Quali sono queste guide? Queste guide sono le guide di intento, sono le trasformazioni dell'inconscio in coscienza. Ma sono inamovibili perché nel momento stesso in cui una coscienza di sé non sviluppa la propria coscienza, il proprio sapere, il nous, sovrapponendo la necessità che ne è la madre, la propria volontà di trasformazione, cessa di svilupparsi, cessa di esistere. C'è una sola scelta, il proprio sviluppo. L'unica alternativa allo sviluppo è la propria distruzione. Le tensioni dell'esistenza si irradiano attraverso ogni coscienza di sé, qualunque sia la sua natura e al veggente, appaiono come linee luminose o come linee di fuoco che consapevoli di sé stesse si irraggiano per alimentare il proprio simile, mentre crescono e si sviluppano all'interno di una coscienza di sé. Diventate consapevoli, generate dalle coscienze di sé, come una rete, avvolgono l'esistente, spingendolo nella direzione che le tensioni dei loro bisogni indicano. Queste coscienze di sé, che tentano di svilupparsi, diventando eterne, infondono una direzione di sviluppo alle stesse coscienze di sé che le hanno generate, al fine di preservare sé stesse e svilupparsi nell'infinito dei mutamenti. Tutto questo brulicare di coscienza appare al veggente come un reticolato di solchi consapevoli che avvolgono ogni coscienza di sé e che sono molto attivi fra gli esseri della natura. Esiste una sola direzione nella quale il nous conduce, la costruzione della coscienza universale. Può essere che qualcuno, ingannato dal proprio condizionamento educazionale, lega percorsi o stadi in modo differente, ma è solo inganno costruito attraverso il blocco delle proprie trasformazioni. Le guide sulle quali si muove lo sviluppo della coscienza di sé e i fini del loro sviluppo è inamovibile e condotto in modo inflessibile. In gioco c'è la costruzione della coscienza di sé universo, anche se la qualità è determinata dai singoli cammini delle singole coscienze di sé e dalle loro interazioni con la loro oggettività. Il progetto di tutta la coscienza, della formazione di tutta la coscienza, è la costruzione della coscienza universale. Ogni coscienza di sé che esiste in questo momento, dall'essere umano al virus al pianeta alla galassia al sole, concorre alla costruzione della coscienza universale. Però può essere che qualche coscienza non ce la faccia, può essere che qualche coscienza rinunci. Se rinuncia si dissolve. La rinuncia o l'essere sconfitti porta alla dissolvenza. La dissolvenza non cambia il fine perché l'energia vitale anche se è dissolta, anche se torna nel proprio stadio di inconsapevolezza, comunque tenterà sempre diventare consapevolezza e comunque tenterà sempre la consapevolezza da sviluppare se stessa. Per cui il fatto che molti esseri umani mettendosi in ginocchio davanti al macellare e sotto a Megomorra rinunciano alla loro opportunità di costruire la loro coscienza in modo universale, cioè proiettandola nell'infinito dei mutamenti, non cambia quello che è l'intento del NOS, non cambia le guidi inammovibili che sono quelle determinate dall'intento, cioè quello di costruire la coscienza universale. Non è importanza se milioni di persone si mettono in ginocchio e rinunciano a loro possibilità di eternità, comunque il fiume va sempre dal monte al mare, comunque l'energia vitale va sempre dallo stadio inconscio alla formazione della coscienza universale. Comunque è sempre questo, non c'è alternativa a questo movimento. Attenzione adesso, siamo arrivati a forse uno dei pezzi più importanti degli oracoli caldaici o comunque un pezzo centrale. Il NOS del padre ronzò con volere vigoroso intuendo idee di ogni forma e tutte si slanciarono da una sola fonte perché dal padre venivano proposito e fine ma distribuite dal fuoco noetico si divisero in altre idee intuibili. Il Signore predispose per il cosmo multiforme un modello neoetico inestinguibile e il cosmo nel suo disordine ne seguì la traccia per poi ostendere sé con la sua forma cesellato da idee di ogni specie. Una era la loro fonte da essa altre idee scaturirono ronzanti disgiunte inaccostabili che si frangono intorno ai corpi del cosmo intorno a un grembo terribile si aggirano a sciami rifulgendo da ogni fianco da vicino in ogni modo implosioni noetiche dalla fonte del padre cogliendo in abbondanza il fiore del fuoco al culmine del tempo senza quiete idee primordiali che la fonte del padre primigenia in sé stessa compiuta fece scaturire bene questo è il pezzo è il frammento dell'oracolo uno dei frammenti più lunghi che abbiamo il pensiero intenzione progetto scopo intendimento modo di pensare capacità di giudizio il sentire tutto questo è il nous ricordiamo sempre di necessità e intento vibrò con volontà decisa quando necessità e intento vibrarono la sostanza di cui erano la qualità divenne coscienza di sé ed espresse volontà rappresentata da pensiero intenzione progetto scopo intendimento modo di pensare capacità di giudizio e sentire questa è la visione da cui parte questo frammento il problema che sorge nell'interpretazione è dove collocare questa visione la collocazione nello spazio nel tempo di quella visione mi permette una corretta interpretazione la collocazione della visione ci consegna l'immagine di un luogo o di un'ambientazione in cui qualche cosa si mescola fin tanto che qualche cosa non la spinge lanciandosi da una sola fonte dunque una fonte dalla quale procede un slanciarsi nell'infinito va letto le coscienze di sé intuendo idee di ogni forma si slanciarono da una sola fonte le idee sono un qualcosa di diverso dal volere vigoroso e sono un qualcosa di diverso dal nous cosa sono dunque le idee quali sono le idee o se vogliamo le intuizioni che queste coscienze di sé hanno avuto per slanciarsi dalla fonte di cui erano contenute erano la costruzione delle determinazioni non si sta parlando di coscienze di sé che si formano nell'energia vitale che si muove libera nello spazio questo è già avvenuto non si sta parlando di coscienze di sé che appartengono a pianeti stelle o galassie questo appartiene ad altre visioni qui si sta parlando della vita della natura si stanno indicando le coscienze di sé dell'essere natura le prime coscienze di sé che producono altre coscienze di sé uguali a se stesse la fonte in cui queste coscienze di sé intuiscono idee di ogni forma e dalla quale si slanciano è quello che in gergo scientifico di oggi si chiama brodo primordiale anche se questa visione è primordiale soltanto per la centralità che gli esseri umani concedono a loro stessi in quanto in ogni istante ogni coscienza di sé è in un brodo primordiale dal quale tenta di staccarsi e di uscire ma accettiamo questo come visione il brodo primordiale è la fonte dalla quale le coscienze di sé si slanciano proprio perché hanno intuito idee l'intuizione le ha portate a guardare il futuro mentre viene il loro incontro e hanno trasformato le loro scelte attraverso il volere vigoroso in determinazioni specifiche della propria specie le coscienze di sé sono all'origine capostipiti nodi di trasformazione importanti momenti di distacco eccetera attraverso i quali originare nuove specie all'interno dell'essere natura queste coscienze di sé trasformarono necessità e intento in propositi attraverso i quali raggiungere il loro fine alla necessità che le spingeva all'intento che aveva trasformato l'energia vitale inconsapevole in coscienza di sé sommarono la propria volontà trasformando necessità del padre in necessità soggettiva di trasformazione e di dilatazione e l'intento della propria trasformazione in intento dell'uso della propria volontà per perseverare nel proprio stato dilatarsi intuendo l'intuibile che le circondava attraverso l'intuire dell'intuibile esse intuirono anche il tempo che veniva loro incontro e per modificare se stesse nel tentativo di costruire il loro futuro costruirono le loro determinazioni che cosa sono le determinazioni sono le idee intuite dalle coscienze di sé mentre guardano il tempo che viene incontro progettano il futuro progettano se stesse non solo in quanto individui ma in quanto specie le coscienze di sé progettando il loro futuro si divisero uscirono uguali dalla fonte ma la loro volontà manipolava in modo soggettivo la loro necessità e questa manipolazione costruì adattamenti soggettivi diversi alle variabili oggettive che incontravano o se si preferisce che intuivano queste coscienze di sé spinte dal fuoco del pensiero dell'intenzione del progetto dello scopo degli intendimenti del modo di pensare e del sentire si divisero ognuno seguendo la propria sequenza di mutamenti ognuna germinando la propria specie ognuna di queste coscienze di sé divennero oggettività per altre coscienze di sé ogni coscienza di sé divenne idea intuibile dall'intuizione di ogni altra coscienza di sé in questo momento troviamo un termine particolare il Signore un soggetto che predispone un modello noetico inestinguibile quale Signore predispone che un fiume segue il suo corso dal monte al mare oggi diciamo la forza di gravità che cos'è dunque il Signore che predispone sono le condizioni oggettive che permettono alle coscienze di sé di slanciarsi dalla fonte in questa oggettività è possibile la vita a base di carbonio non è possibile lo sviluppo della vita a base di silicio oggi 1999 io lo posso affermare il veggente degli oracoli caldaici vedeva le condizioni alle quali le coscienze di sé operavano adattamento soggettivo come il potere attraverso il quale veniva costruendosi il modello noetico inestinguibile nell'oggettività in cui le coscienze di sé si espandevano viene seguita la traccia del loro sviluppo una sola era la loro fonte ma una volta che hanno seguito la traccia del loro sviluppo da quella traccia altre coscienze di sé scaturiscono prendendo altre vie così dall'essere ameba nasce l'essere rettile dall'essere rettile nasce l'essere mammifero eccetera 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 fino alle coscienze di sé come oggi noi le conosciamo e nella forma che le conosciamo il tutto viene presentato come l'immagine del vortice dove tutto nasce si trasforma per nascere e trasformarsi quell'immagine del vortice è l'immagine della nascita e della trasformazione della coscienza di sé dell'essere natura che si nutre della consapevolezza di ogni coscienza di sé che costruendosi si alimenta alimentando i propri processi di sviluppo il grembo terribile attorno al quale si aggirano sciami è quello di Rea è il grembo dell'essere natura da cui tutte le coscienze di sé originano e sono il fondamento stesso della sua esistenza le coscienze di sé si aggirano a sciami la visione a sciami è esatta sia quando si tratta delle coscienze di sé della specie cui apparteniamo sia per quanto riguarda ogni specie sia per l'insieme delle specie l'essere natura è spesso visibile come un grande sciame composto da ogni consapevolezza di cui è fonte madre e figlia allo stesso tempo ciò che implode è ciò che si trasforma dentro quando si trasforma dentro trasferisce il proprio potere di essere all'esterno l'implosione è essenza delle trasformazioni nei mutamenti quanto implode si trasforma alimentando la propria coscienza di sé e variandone le determinazioni per lo sviluppo della propria specie cosa diversa è l'implosione della distruzione di se stessi quando si rinuncia ad alimentare la propria crescita e si attende la propria distruzione che cos'è il culmine del tempo senza quiete è questo tempo è il momento in cui lo sviluppo della coscienza di sé avviene attraverso la soluzione delle contraddizioni questo è il tempo senza quiete questo è il tempo della crescita la crescita non è tempo di quiete la crescita è tempo di sviluppo delle contraddizioni all'interno delle quali costruire la coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti che cos'è quel cogliendo in abbondanza il fiore del fuoco chi lo coglie ecate l'essenza delle trasformazioni e dello splendore dello sviluppo della coscienza di sé lo sviluppo della coscienza di sé l'esercizio della propria volontà la costruzione delle determinazioni attraverso le quali favorire lo sviluppo della propria specie in armonia con tutte le specie dell'essere natura formano la cintura dei fiori di ecate ma e lo sviluppo della coscienza di sé arricchisce la cintura di ecate la fine della coscienza di sé e la sua rinascita pone le basi per la rinascita della coscienza di sé universo la fonte primigenia del padre fece scaturire quanto esiste della coscienza di sé dell'essere natura non poteva essere altrimenti queste sono le condizioni e questo è il risultato di necessità e intento su questo pianeta sotto altri soli sopra e sotto altri pianeti altri brulicare di fonti altri brulicare di vite e coscienze di sé agiscono per arricchire di fiori della coscienza la cintura di ecate in questo frammento la nostra attenzione va concentrata sulla formazione della coscienza di sé dell'essere natura e delle condizioni che su questo pianeta hanno consentito di costruire la nostra specie nella storia del paganesimo politeista ci sono varie immagini sulla creazione a seconda di dove i veggenti concentrarono la loro attenzione ogni trasformazione diventa atto di creazione in quanto non esiste una creazione dal nulla ma un divenuto che è il momento di partenza e di trasformazione di un nuovo divenire un divenuto che si trasforma per costruire il nuovo per il paganesimo politeista ogni momento è un momento di trasformazione e dunque l'attenzione del veggente può considerare quel momento importante come il momento importante della propria esistenza ma l'esistenza del veggente è oggetto in sé stesso è il momento in cui il veggente dice da questo momento io mi sono trasformato o mi sto trasformando il veggente può ignorare tutto il precedente ma il precedente lo ha formato ed è figlio del precedente e padre del futuro che costruirà anche per aver concentrato la propria attenzione su quel momento e non su altri concludendo il frammento attenzione al concetto di idea il concetto demiurgico che porta l'idea all'interno del mondo sensibile è atto della volontà soltanto per quanto riguarda i percorsi di sviluppo della coscienza di sé all'interno dell'essere natura e ha come risultante non solo lo sviluppo di coscienza di sé libere ma come sviluppo della coscienza di sé dell'essere natura stessa l'idea è quanto la volontà della coscienza di sé trasferisce come patrimonio della specie l'idea è oggetto che la volontà del singolo essere trasferisce nella propria specie per determinazione ogni essere di ogni specie è un punto d'arrivo della specie stessa ogni essere di ogni specie è un punto di partenza per la formazione di specie future il singolo essere della natura attraverso l'uso della propria volontà e procedendo per adattamento soggettivo alle variabili oggettive sceglie delle modificazioni più o meno evidenti più o meno sviluppabili che si perpetuano nelle specie favorendone e complicandone i processi di sviluppo le modificazioni sono le determinazioni specifiche della singola specie che attraverso le modificazioni soggettive favorite dalle condizioni della natura diventano patrimonio dell'intera specie l'attività demiurgica è la capacità del singolo essere di trasformare la propria volontà in situazioni stabili che favoriscono lo sviluppo della specie e dell'intera natura del suo insieme in tutto questo c'è una cosa che deve essere chiara mentre nel cristianesimo mentre nel cattolicesimo tutto avviene ad opera di Dio tutto è il prodotto del lavoro di un ente esterno a cui tutto soggiace e tutto è sottomesso nel paganesimo politeista tutto è trasformazione tutto passa da uno stadio ad un altro per migliorare le condizioni di sviluppo della propria coscienza di sé perché mio nonno come cellula singola è uscito dal brodo primordiale ha lavorato per modificare l'atmosfera e per costruire migliori condizioni di vita per dare delle condizioni migliori a chi veniva dopo per sviluppare al meglio la propria coscienza di sé dunque non un progetto di un ente di un Dio trascendente di un Dio padrone ma progetto dei singoli esseri qualunque si siano dell'oggettività in cui vivono le condizioni di trasformazione le condizioni dell'esistenza appartengono al mondo in cui viviamo sia che noi le percepiamo o sia che noi non le percepiamo per quanto riguarda poi il concetto platonico di idee vi ricordo che le idee in Platone non sono altro che gli dei cioè sono enti sono soggetti che hanno una loro volontà e una loro determinazione queste sono le idee in Platone non sono idee come progetti del pensiero cioè non ha niente a che vedere il mondo delle idee di Platone il mondo degli dei non ha niente a che vedere con le idee della mente e le idee del pensiero per cui l'idea non è altro che l'atto di volontà l'atto di volontà che si imprime che si viene a costruire il proprio sviluppo nelle condizioni in cui si esprime questa è l'idea cioè l'idea è il Dio l'essere umano che esprime la propria volontà e le proprie determinazioni per sviluppare se stesso nell'oggettività in cui vive al di là di come la percepisce lui si fa Dio cioè è un'idea intesa in senso platonico cioè non trasformiamo tutto quanto in linguaggio comune per cui noi dobbiamo vedere il mondo come un brulicare continuo di trasformazioni e questo è in questo mondo che noi stiamo vivendo non stiamo vivendo in un mondo che è progettato da un Dio pazzo che tra il ricamino bello e bravo dove tu hai un ruolo hai un posto tu da qui finisci là no noi abbiamo un mondo di determinazioni un brulicare di cause un brulicare di cause nelle quali noi agiamo inserendo a nostra volta la nostra causa cioè noi siamo protagonisti di un progetto più ampio che è il progetto della natura che non è un progetto stabilito da priori stabilito a monte ma è un progetto che viene costruendosi attraverso l'incontrarsi di cause determinazioni bisogni necessità di ogni ente che partecipa all'essere della natura questo è il progetto dal punto di vista del paganesimo e fra la visione pagana e la visione cristiana non esiste nessuna mediazione quando io dico che i cristiani sono dei beceri assassini è perché effettivamente loro vogliono togliere all'essere umano la capacità di vivere nella natura e togliendo all'essere umano la capacità di vivere nella natura lo portano a saccheggiare la natura perché gli tolgono la capacità di sentire la natura quando io vi ho parlato un attimo fa del concetto di nous quando io dico il concetto di nous il concetto di nous non sta a indicare una cosa sta a indicare il pensiero l'intenzione il progetto lo scopo l'intendimento il modo di pensare la capacità di giudizio la capacità di sentire di ogni singolo ente quando dico il nous ha fatto questo significa che il nous nella coscienza di sé è il suo pensiero è il suo progetto è il suo scopo è le sue intenzioni è il suo intento è la sua capacità di sentire è il suo giudizio cioè è un insieme di cose che sono degli strumenti con i quali la coscienza va ad affrontare la vita va ad affrontare la vita tutti i giorni e questa è la cosa importante mentre invece cosa fa il cristianesimo fa confidare in un ente esterno toglie all'essere umano la capacità di affrontare la vita questo è l'assassinio del cristianesimo se dopo noi possiamo vedere leggersi la cronaca dei giornali come farò dopo e diamo un certo giudizio su degli avvenimenti ma quello è un giudizio che do sugli avvenimenti cioè io interpreto degli avvenimenti dal mio punto di vista per cui do un giudizio ma quello è relativo agli avvenimenti quando io invece do un giudizio dal punto di vista del pagano cioè il pagano che guarda la vita non do un giudizio nei confronti del cristianesimo in base alle azioni che il cristianesimo fa cioè non dico il cristiano ha stuprato il bambino e allora il cristiano va condannato no questo lo dico per la cronaca dico il cristiano nella sua dottrina si ritiene padrone della vita si ritiene padrone dell'esistenza perché gliel'ha data Dio pertanto si ritiene in diritto anche di stuprare la vita questo è la mia condanna del cristianesimo cioè al di là che poi lui stupra o non stupra è irrilevante la mia critica cioè quando io attacco dal punto di vista dogmatico il cristianesimo lo attacco per la dottrina per i principi che ha ma per i principi che ha non per come li vende come mi diceva un'amica in una lettera diceva mi ha sentito mio papà che lui è cristiano e ha detto che tu sei ignorante in realtà ha ragione il suo padre dal punto di vista del cristianesimo io sono ignorante perché perché ignoro tutto quello che è l'apparato propagandistico l'apparato diciamo così culturale fra virgolette con cui il cristianesimo è riuscito a far passare il macellaio di Sodoma e Gomorra come un dio buono cioè tutto quell'apparato culturale tutto quell'apparato di condizionamento che ha messo in essere il cristianesimo per far passare un assassino come dio buono io lo ignoro non lo considero neanche è solo propaganda tipo quella del dentifricio tipo quella della saponetta che lava più bianco chiaramente ignorando questo e cancellando tutta questa operazione che fa il cristianesimo e prendendo i principi reali cioè i principi fondamentali del cristianesimo è ovvio che per un cristiano che lui invece ritiene che il suo dio sia buono nonostante il macello di Sodoma e Gomorra è ovvio che io sono ignorante per cui è perfettamente ragione un cristiano da questo punto di vista cioè io ignoro tutto l'apparato propagandistico con cui il cristianesimo nasconde la propria dottrina nasconde i propri principi nasconde i propri dogmi ignorando questo ignorando questo dal punto di vista del cristianesimo il cristianesimo dice tu non ti metti in ginocchio perché sei ignorante cioè ignori la mia propaganda ignori come io nascondo l'aberrazione del macerale Sodoma e Gomorra per cui tu sei ignorante e questo è verissimo cioè il cristianesimo arriva a coprire quello che è l'essenza dei propri principi con un velo di apparenza il paganesimo dice il contrario dice io ti affronto per quello che tu sei non per quello che tu vuoi apparirmi io non scendo a discutere con te se tu mi dici che il Gesù di Nazareth è buono io vengo a discutere con te quando mi dici che il Gesù di Nazareth è quello che dice di sgozzare i nemici è questo che tu devi affrontare me perché tu per 1500 anni hai sgozzato i tuoi nemici e quello è parte della tua dottrina e tu non hai detto che Gesù di Nazareth che sparava quella porcata era un lazzarone ma l'hai tentato di nasconderlo e mentre lo nascondevi sgozzavi i nemici e quello è un gioco che io non posso accettare io devo accettare le cose per ciò che le cose sono per cui un cristiano è un assassino in base ai propri principi non perché lo dico io si pronto? si Francesco da Vicenza non c'entra con il discorso che stai facendo volevo sapere in base le tue conoscenze mitologiche cos'è il levietano lo sai sai qualcosa tu? io del levietano so che è un libro di Hobbes mi sembra ecco ecco si qualcosa del genere ma ti inizia col paganesimo non l'ho letto non l'ho letto perché secondo me fa parte di tutto un apparato di pensiero che insomma non ho mai trovato necessario di affrontarlo va bene prego grazie ciao beh io vi ricordo ancora che io non ho cultura cioè nel senso che io non ho quella cultura che è scolastica io semplicemente sono andato ad alterare la percezione e dopo sono andato a chiedermi ma che cazzo mi sta succedendo e in quel chiedermi che cosa mi sta succedendo mi sono costruito per cui io non ho la cultura scolastica per ricordarmi tutto dopodiché posso benissimo guardermi che cos'è il levietano probabilmente nella mia libreria c'è anche da avere qualcosa di simile e dargli un'occhiatina insomma o dare un'occhiatina ai principi generali però ricordatevi io non ho questo tipo di cultura si pronto? 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 si? senti? volevo dire per quanto riguarda Gesù di Nazareth che dicevi che può essere anche lui un assassino che sia sia stato un'occhiativa per quanto riguarda per quanto riguarda per quanto riguarda